we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi nuovo fortbyte disponibile in tempo reale come sempre come ogni giorno ragazzi per voi subito 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 il fortbyte è il numero 32 ragazzi e bisogna raggiungerlo indossando il backpack piccolo amico kyo che è quello che state vedendo in poche parole raggiungendo il punto più se più nord più settentrionale settentrionale a nord comunque dell'isola il punto ragazzi in questione è esattamente vediamo se riesco a farvelo vedere questo qua che si trova in poche parole proprio più avanti della piccola pista da kart quella che cioè della buonasera della piccola fabbrica che c'è qua con dentro il set cinematografico vediamo se riusciamo a raggiungerlo senza farci ammazzare il fortbyte comunque come vi anticipavo il numero 32 per fortuna non ci sono armi quindi direi di scendere e di recuperarlo io vi ringrazio per avere guardato questo video vi ricordo di iscrivervi al canale noi ci vediamo alle 17 in live ciao iscriviti al canale